Cerchio Firenze 77, la fonte preziosa, rivelazioni sull'assoluto, a cura di Luciana Campani Setti, edizioni mediterranee. Comprendo la vostra difficoltà ad afferrare questi concetti. Il mondo che voi osservate è un mondo che sembra in continuo divenire. La realtà che cade sotto i vostri occhi vi pare una realtà che continuamente divenga. Ma dovete tenere presente che questo è quello che appare, non quello che è. Ecco che cosa andiamo ripetendovi da tempo. La verità non è che voi osservate un mondo che diviene, ma è che voi avete una visione dinamica di un mondo statico. Non è la pianta che cresce e che continuamente diviene, che non è più quella che era, ma siete voi che ne osservate in successione le fasi di esistenza. Voi che credete che le fasi già osservate non esistano più. Errore. Esistono nell'eternità del non-tempo. Vedete, abbiamo cercato di farvi capire che la realtà è tutta diversa dall'apparenza, che il mondo che cade sotto i vostri occhi è un mondo immobile, statico. Cerchiamo di farvi capire che la realtà non è una che diviene, ma una costituita da molte che sono. Allora direte voi, dove nasce il movimento? L'illusione del movimento è originata dalla natura del sentire individuale, ma per comprendere ciò dobbiamo renderci conto una volta per tutte che noi non siamo creati nel senso generalmente accettato, cioè che Dio ci abbia tratto da se stesso in se stesso ad un dato punto o momento della sua esistenza senza tempo. Credere a ciò è quantomeno singolare se si riconoscono a Dio i caratteri di assoluto, infinito, eterno, immutabile. Dunque noi esistiamo in Lui in eterno e possiamo considerarci Suoi figli solo nel senso che facciamo parte di Lui, della Sua natura, che siamo una conseguenza della Sua esistenza. Solo in questi termini noi discendiamo da Lui. Egli è la realtà assoluta. Egli è. Egli sente. Egli è sentire assoluto.